Erano stati sacrificati nell'ambito della mini-rivoluzione per i lavori ancora ad avviare nella Labbolino. Alla fine la ASL1, dopo le proteste delle donne in dolce attesa, ha trovato il cosiddetto piano B per i corsi pre-parto e l'ambulatorio del pavimento pelvico del punto nascita dell'ospedale dell'Annunziata. I locali per svolgere i corsi pre-parto sono stati ricavati nel vecchio reparto di pediatria, in una stanza che sarebbe servita come saletta di attesa, mentre l'ambulatorio è stato allestito all'interno della medicina nucleare. Si tratta di sistemazioni temporanee che in ogni caso ci consentono di dare continuità a servizio e procedere con i lavori. Fanno sapere dalla ASL che per due mesi di fila aveva lasciato le pazienti del reparto di ostetricia e ginecologia senza garazzie per i due servizi. Il punto nascita, oltre alle problematiche logistiche, ha dovuto lottare anche con la carenza dei medici. Tre e mezzo ne sono rimasti dello scorso 30 settembre, tre ginecologi più il primario che interviene però solo per gli interventi urgenti. Dall'Azienda Sanitaria hanno pubblicato a quel punto due avvisi per reclutare due medici specialisti e due specializzanti con contratto a tempo determinato.